Il Consiglio regionale nella seduta del 29 settembre scorso ha approvato la legge modifiche ed integrazioni alle leggi regionali numero 18 dell'83 e numero 11 del 99 e misure urgenti e temporanee di semplificazione in materia urbanistica. La norma, frutto di un'iniziativa congiunta, esecutivo regionale e alcuni consiglieri di maggioranza del Consiglio regionale, introduce disposizioni di semplificazione in materia di urbanistica intervenendo sul processo di approvazione degli strumenti di pianificazione, snellendone le procedure, specie quelle di iniziativa privata, confermando quale unico momento decisionale l'istituto della conferenza dei servizi all'interno della quale troverà spazio anche il parere delle amministrazioni provinciali. Previste modalità semplificate per l'approvazione dei piani attuativi conformi ai piani regolatori tramite un unico atto di competenza della giunta comunale e in attuazione del testo unico sull'edilizia, introduce la possibilità per i comuni, all'interno dei piani attuativi o di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario, di prevedere limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati, in deroga a quelli previsti dal decreto ministeriale 1444 del 1968, purché finalizzati alla di qualificazione e al recupero urbano, questo per dare concretezza e sostanza a fine di agevolare al massimo la ripresa economica attraverso la rigenerazione urbana. Sono stati inoltre definiti i casi che non comportano variante urbanistica, la cui approvazione è demandata ai consigli comunali e prevista l'integrazione delle procedure di VAS e di pianificazione al fine di tagliare i tempi morti all'interno del procedimento di approvazione dei piani urbanistici.